Intro Bentornati sul canale di Axios 00 Bentornati a un nuovo episodio di The Legend of Zelda Breath of the Wild E allora, prima di tutto, prima di partire verso il Colosso Si, oggi ci andremo, finalmente È arrivato il momento di andarci dal Colosso Io volevo mettermi gli stivali Quelli che ci hanno dato adesso Cioè, quelli della sabbia Eccoli qua, stivali della sabbia Più velocità sulla sabbia Pregiati stivali che un tempo erano in voga tra leggi e rudo Ok, l'ho cambiata un po' la frase Ma va bene Volevo provare E mentre per il resto della montura Io vorrei mettermi magari qualcosa tipo Non lo so, la tunica Aelia e il cappuccio Aelia Almeno per il momento Un po' calduccino Ma se mi metto la spada del ghiaccio Dovrei andare, ok, a posto E vediamo un po' di prendere questi Questi arnesi Non volevo noleggiarne uno Volevo Frigarglieli qui davanti Volevo vedere un po' se riuscivo A prenderne uno al volo Dai che questo ce la facciamo Dai che questo ce lo facciamo in diretta Ve l'ho già fatto vedere una volta Però comunque Penso che sia una cosa abbastanza carina Afferra! Vai così! Forza! E adesso aspettate Perché devo impostare La missione giusta Tipo i quattro Il colosso sacro Naboris Ok, perfetto Almeno scendiamo sulla mappa A vedere dove diamine devo andare Ok, devo andare dalla parte opposta Esattamente Benissimo Scatta però Vai a palla contro l'altra L'abbiamo fatta rivaltare Bellissimo Ok Continua a scattare Bellissima Vai così che va bene in questo modo Più o meno la direzione giusta Dai che stiamo andando Da Riju Credo si chiamasse Maledizione Mica me ne ricordo già più Io dei nomi Sono una tragedia Con i nomi Stiamo per andare Contro a quella costruzione Che non ho idea Al momento Che cosa sia di preciso Ma dobbiamo andare qui Quindi Ok Va bene Andiamo via Fermati Link Perfetto Lasciala andare E vediamo un po' Chi c'è All'aspettarci in questa casetta Tra l'altro Ok Magari Prima di andare lassù Vado un po' dentro Alla casa Vediamo un po' Se magari c'è davvero qualcuno All'aspettarci Qua dietro c'è niente Ah c'è la La scala per salire fin lì Ok Dopo ci saliremo Non vi preoccupate Entriamo nella casetta E Salve Qui c'è uno scrigno Lo apriamo dopo magari Chi sei? Esattamente Sop Sono allibita Che hai fatto? Non pensavo che tu Gracile come sei Ma davvero andrai a combattere Contro il colosso sacro? Beh Immagino che la matriarca Avrà delle ottime ragioni Per concederti la sua approvazione Ti aspetta in cima Alla base di osservazione Faresti meglio a sbrigarti E Qui esattamente Cosa mi date Come equipaggiamento? Un arco gerudo Che ne abbiamo già E se no Questo è molto resistente Però aspettate un attimo Volevo vedere Gli archi Se ne abbiamo un altro Tiro rapido Super attacco Lo potremmo prendere Al posto di Di un arco da cavaliere Che si Oddio Anche di un arco falcone Arco aquila L'arco falcone Forse lo toglierei E Mi prenderei Quest'altro Arco Gerudo Al momento Eh che forse ce la facciamo Tanto l'arco buono Quello Dei rito Ce l'ho eh Ce l'ho sempre in saccoccia Quindi non c'è problema Allora Perfetto Saliamo La torre d'osservazione Dovrebbe essere l'altra Quindi per il momento Io volevo provare a salire Sul tetto Nel frattempo Tanto così per vedere Tante volte ci forse C'è qualcosa qui Tipo un korogu Invece non c'è Assolutissimamente Niente Manco per i sbaglio Ok Ce la faremo A prenderlo in volo Ma anche no Quindi usiamo una tecnica Un po' più Rapida Per sa Che troppo rapida Aspetta un po' Troppo rapida Riscendiamo Con calma e per piacere Ok Ho aperto al volo A pelo proprio Il tutto Riju Avevo detto giusto il nome Bene bene Allora è questo il tuo vero aspetto? Già Devo ammettere che non è una vista A cui sono abituata Vivendo nella cittadella Già Però era giusto anche Farsi vedere in queste condizioni Lo vedi? Il colosso sacro Vanna Boris È lì davanti a noi Al momento Credo sia quello là A occhio Ma per riuscire ad avvicinarci A quel bestione Dovremmo usare le foche delle sabbie Sei pronto? Sempre pronto Bene Mettiamoci in marcia Per prima cosa Useremo le foche delle sabbie Per accorciare le distanze Io andrò avanti Tu cerca di mirare Con le frecce bomba E colpire i suoi piedi Naboris Drana l'energia che gli serve Per diambulare dal terreno Se miri ai piedi Secondo me Riusciamo a fermarlo Però Le sette che scaglia Sono micidiali Anche un solo colpo Ti potrebbe essere fatale Ora Con l'elmo del tuono Io posso respingere le saette E proteggerti Ma la portata di questo effetto È limitata a un'area circoscritta Insomma Se ti allontani troppo da me Non sarai protetto dai fulmini Vedi di ricordartelo Ah un'altra cosa Promettimi che Se sei troppo ferito Per continuare la battaglia Tornerai qui Alla base di osservazione Eh d'accordo Non metterai a repentaglio La tua vita Mi raccomando Prevelo tragedia Già da ora Ma sono dettagli Ecco qualche frecciapomba Grazie Te lo stavo per chiedere Le scorte non sono infinite Quindi cerca di prendere bene la mira Ok Frecciapomba per 20 Alla grande Questa è l'ultima volta Che te lo chiedo Sei pronto? Sì Va bene Colpiri ai piedi Ma la foca? Perché io al momento Non ce l'ho Ah ok Mantieni le distanze No Da te no Devo starti vicino Magari mantengo le distanze da lui Eh Oppure volevi dire In altro modo Il mio nome è Riju Sono la legittima erede Della famiglia reale Gerudo E adesso Userò il potere Del tesoro sacro Per placare il colosso sacro Vanaboris Antenati Gerudo Rispondete la mia richiesta Con il potere del tuono Ah così proprio Wow È una discreta barriera Non troppo grande però Per la verità Cioè da Ci sarà da starci parecchi attenti Perché Sarei quasi per mettermi La monturina Quella Per la resistenza al fulmine Oh Quindi questo è il potere del tesoro sacro Guarda quanta energia lo permea Effettivamente Sì brava Mettitelo bene in testa Andiamo Ok Perché ti vedevo Partiamo male Altrimenti Grande E anche la foca qui accanto È bella focata Bellissimo Abbiamo anche La foca In estasi Uh grande urbosa Ti prego Proteggimi il link Durante questa impresa Spero lo farà Prevedo Tragedia però Più che altro Perché Io non sono sicuro Di riuscire a stare Dentro a questo coso A questo cerchio Come vedete Attenzione Allora Prima di tutto Scusate Mettiamoci Allora Un arco gerudo Tipo Questo E come frecce Frecce bomba Ok Benissimo Sarà Sarà un problema Stagli dietro Credo Calma 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 Ale Calma Calma È per piacere Che gli stiamo Abbastanza Dietro A meno Non stiamo perdendo troppo Intanto È freddo Ma come è freddo Io sto perdendo cuori Perché è freddo Ma per quale oscura ragione Comunque Usiamo questa Almeno Non abbiamo più freddo In questo modo C'è un sacradio In vicinanza Tra l'altro Ma anche se sono dettagli Da Da Link Rientra dentro Per l'amor del cielo Dov'è il colosso sacro Esattamente Che non lo vedo già Non lo vedo Ma lo stai vedendo Almeno tu Rishu Sei sicura Di dove stiamo andando Perché a me Non sembra La direzione Corretta Rientra dentro Link Per l'amor del cielo Non sto vedendo nulla Io mi fido di lei Ma se lo dice lei Che è una cosa del genere Spero che ci torneranno utili Comunque Gli stivali per la sabbia In ogni caso Se non altro Ci torneranno utili Quando dovremo andare Alla ricerca Degli eventuali Sacrari Anzi Dei Sacrari Non eventuali Perché li abbiamo lasciati indietro I Sacrari Quindi Quando dovremo tornare A girare In questa zona Sicuramente Ci farà comodo Ci siamo ragazzi Perfetto E siamo nei guai Mi sa Ci son vicino Non ti preoccupare Se non scatti troppo Sono vicino a te Vana Boris Sono protetto Spero Per fare cosa Sono troppo lontani Ok Proviamo Adesso Uno preso Vai No no Lo vedo Lo vedo Lo vedevo Che ero dentro Più o meno Via di qui No E concentrati Ma anche tu E che diamine Dove Dov'è la mia Fucarella Aspettate un po' Che da qui Da sedere Forse No 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 Continuiamo Continuiamo Mira i piedi Ce la puoi fare E l'avevo preso Quello Ok Andiamo Perfetto Un po' più veloce Sto cercando di fare Il possibile Ma starti dietro È un problema Grossissimo problema Ok Vai così Sono Sono fregato Sono fregato Avvicinati Bella Avvicinati Questo è tostissimo Da fare questo Più che altro Perché lei Va dove gli pare Praticamente Vai là Quasi Ho ancora 12 frecce Ale Quindi dovresti farcela Però mira un po' Mira un po' meglio Magari Maledizione Tipo Ma è bigliacca Questa cosa Ok Miriamo anche a questo Perfetto Manca Ne manca uno Sbaglio Credo Ne manchi uno Però qui adesso Devo stare attento A non essere Falciato Smettila di ondeggiare Accidenti a te Mamma mia Se ho rischiato Ok 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 Allora Dai bella Dai che ci siamo Perfetto Perfetto Alza quella Diamine di zampa Vai così Di poco Di poco Di poco Devo stare attento Ad essere Non essere colpito Più che altro Più che stare A colpire lui Al momento Potrebbe darmi Veramente tanto fastidio No bella Di qui È un problema Più che altro Perché Ce l'ho fatta Grandi Preso Yes Grandissimi Ok Perfetto Mirato Fortunatamente Proprio di fortuna Sfacciata Ma è andata Ah Grande in questa maniera Non è che ci sta cadendo addosso Vero il tizio È rimasto solo Bloccato Spero Sì No Sta cadendo Non su di noi Va bene così Inderapata La nostra foca Purtroppo Non posso fare niente Per placare Il colosso sacro Naboris Da qui in avanti Devo affidarmi a te Link Non deludiamo Tra l'altro Non so se avete visto Ma lì in basso A sinistra Rispetto al colosso C'era un sacrario Bello acceso E Effettivamente Dovremmo farlo Anche quello E per questo Ho preso Anche gli stivali Della sabbia È uno dei motivi Perfetto Ok Almeno serviranno Se non altro Spero che l'episodio Scorso vi sia piaciuto In ogni caso Io vi ricordo Se vi piacciono questi episodi Di condividerli Sui vostri social Così mi aiutate a crescere Come canale Questo logo È stato registrato Sulla mappa Come punto di teletrasporto Perfetto Era così tanto tempo Che desideravo Rivedere il tuo mondo Ero sicura Che prima o poi Saresti venuto da me Immagino Non sia ora Di strappare Naboris Dalle grimpie di gamma Dunque Per prima cosa Ti servirà Una mappa Per orientarti Qua dentro Puoi procurarti Le informazioni Sulla mappa Tramite quella pietra Guida laggiù C'è un problema Non ho capito Nemmeno dov'è Devo entrare dentro O cosa Vi giuro Non l'ho capito Comunque Prima di Infilare All'interno Del colosso Proviamo Un attimo A prendere Al volo Quello Maledizione Spero che il ghiaccio Tenga abbastanza Perché lo voglio Togliere di mezzo Questo Grandissimi In questa maniera Perfetto Grandi Grandi Vita ancestrale E molla ancestrale Io ora devo capire Dove diamine Devo salire Esattamente Dove diamine Devo andare Comunque Lancia da guardiano La foto Gliel'avevano fatta Yes Non ho bisogno Di spade O di altre In questo momento Ho la spada suprema Che è a 60 Al momento Dovrebbe fare Parecchio Parecchio male E Intanto volevo andare Distruggere questo Che l'ho visto A caso Ma l'ho visto L'importante è quello Perfetto Che ci ha aperto la strada E la mappa Tecnicamente Dovrebbe essere Là Magari un po' più su Dovremmo anche capire Come funzionano un po' Questi cosi elettrici Perché Ci sarà effettivamente Da capirlo La mappa Dovrebbe essere Lassù in cima Quindi Vediamo un attimo Di salire Qua Ok Mi avete detto tutto Che questo Tutti Che questo colosso Sarà il più difficile Del gioco Però al momento È quello Di cui si raggiunge La mappa Più facilmente Di tutti Quindi Almeno questo Ce l'ha Da ora in poi Sarà una tragedia Ma almeno La mappa Si raggiunge facilmente Ed è già una gran cosa Perché se vi ricordate Nello scorso Nello scorso colosso Mi sembra L'episodio Scorso colosso Era quello al buio Se non ricordo Che io ci ero perso Eccetera Quindi Insomma Bene così In questo caso Com'è È un tubo Circolare Ok Posizione Ok Posizione attuale Terminale Circuito attivo Circuito non attivo Ruota di 90 gradi E indietro Va bene Sistema di controllo Del colosso sacro Attivato Dovremmo capire Come usarlo Adesso Bravo Ti sei procurato La mappa Del colosso sacro Eh ti ringrazio Ora guardala bene I simboli luminosi Sono i terminali Che controllano Il colosso sacro Va a Naboris Ok Quindi Per riconquistare Naboris Devi attivare Tutti i terminali E lo sappiamo Ormai Ci siamo abituati A fare ste cose So che ce la puoi fare Io no Io per niente Cara Urbosa Io Non lo so Neanche per i sbagli Che ce la posso fare Quindi Allora Vediamo un po' Di capire Prima di tutto Come funziona Tutto questo colosso Che io non ne ho Veramente Ben che minima idea Ma Allora Così a occhio Quello è il Terminale centrale Perciò Va bene Vediamo un po' Dalla mappa Se riusciamo a capire Più o meno Dove sono gli altri terminali Due sono qui In questa zona Nel circuito Nel cerchio Diciamo nel cilindro Uno è davanti È in faccia Praticamente E uno è in una delle gobbe E questi cosi Ah È come se fossero Tre cilindri separati Che si possano ruotare Di 90 gradi l'uno Però attivi Per ora ci sono solo Gli altri due Non quello Davanti Non quello che Avevo selezionato Non questo Per esempio Vediamo un po' Se riesco a capire Prima di tutto In che direzione Sono girato Sono dalla parte opposta Rispetto a Un'eventuale Cosa Da attivare Terminale da attivare Quindi Se io ruoto Un po' questo Tanto per fare una prova Ehm Come No no Devi girarmi Questo Vediamo un po' Uh Urca Lo Lo gira forte Ok Proviamo un po' A vedere Che succede Perché Devo Più o meno Capirlo Come funziona Il tutto Finché non lo capisco Non è che posso fare Molto Francamente Devo praticamente Crearmi Delle scalette Per andare Lassù in cima E Ehm Devo riuscire a capire Come fare Da qua fuori Intanto c'è C'è un tizio Che noi Toglieremo Subito Di mezzo Mamma mia La spada suprema Com'è Quando fa queste cose Mamma mia Che belva Che belva Che è Mamma mia Allora Dovremmo Praticamente Aprire questa Parte Credo Dovrebbe essere Dovremmo essere Alla stessa altezza Per entrare Di là Giusto Yes Ok Vediamo Vediamo un po' Cosa riesco a fare Tipo Ora però È E' spento Sembra Come Come funziona Aspettate un attimo Ma lo posso far funzionare No funziona lo stesso Stavo cercando di capire Come far funzionare il tutto Ok La cosa è lì E' qui dentro Volevo vedere se c'era un occhio Da sterminare Eventualmente Sembra di no Giriamo Ancora un po' questo Dovremmo ritornarci Diritti Dritti in teoria Bene Quindi questa è attivata Grandi L'abbiamo attivata Subito E uno fatto E sono soddisfazioni anche queste Tavoletta shaker riconosciuta Grazie E' piano piano Ce la facciamo Con calma e per piacere Ci riusciamo Con comodo Ecco Con comodo Cerco di far fare Altri giri a questo Per vedere un po' se Sbucchiamo da altre parti Oppure no Nel frattempo Ok Siamo riusciti Questo dovrebbe essere Il luogo Da dove eravamo arrivati Yes Benissimo E uno è attivo Ora Lì tra l'altro C'è uno scrigno Devo capire un po' Come far Ruotare anche questo Intanto vediamo un attimo Dove sono gli altri terminali Allora ce n'è uno fuori Da questi cilindri Che è proprio fuori E uno Volevo prima fare I cilindri Cioè I terminali di dentro al cilindro Perché altrimenti Poi ci incasiniamo Devo fare Quello di là No aspetta Nulla Nulla Dovrebbe essere lì E mi rimane Sopra Però non ho idea Di dove sia Al momento Tra l'altro L'entrata Sembra lì Però da qui Non la posso raggiungere Io mi posso Arampicare qui Eventualmente Anche no Perciò questa parte Come la raggiungo Forse Da Dalla parte opposta Da di là Magari Ora siamo Più o meno Sulla destra Di questo cammello Credo Quindi proviamo Andare dalla sinistra Magari è qui L'ingresso Sì c'è anche Altra roba Oltre all'ingresso Purtroppo Bravo Spara Spara quanto vuoi E ora ti prendo io Sai Bello così Grandi Lascia il guardiano L'abbiamo fatta La foto Sono più che sicuro Tanto Assi ancestrali E ingranaggi Ancestrali E questa Dovrebbe essere La porta che si gira Ma Forse dobbiamo Distruggerla noi Yes Grandi Grandissimi Ok Me ne sono reso Conto al volo Meno male È andata bene Di lì usciamo Di là è chiusa Ma ci posso arrivare Io da qui adesso Volevo far saltare Anche Quella porta Già che c'ero Lanciamo Esplodiamo Facciamo esplodere Più che esplodiamo Perché non è bello Dire esplodiamo Dai link Grandissimo Scrigno Ottimo Così Ottimissimo In questa maniera Molla ancestrale Bene Oggetti ancestrali Che ci torneranno utili Come dico sempre Per potenziare La nostra armatura Ancestrale I nostri oggetti ancestrali Per comprare I nostri oggetti ancestrali Poi da ciliegia A questo punto Io direi di far girare Un po' Questa parte Per vedere Dove andiamo a finire Ah il terminale Deve essere lassù Sopra quel cerchio In teoria Allora se io Lo rigiro un'altra volta E poi salto Per fermarmi No Vai link Vai link Per fermarmi Volevo fermarmi di là Ma ho sbagliato Maledizione Perché la piattaforma Ora dovrebbe essere Ritornata lassù in cima Perfetto Ma se io Lo faccio da qui Il giro Che succede esattamente Tanto per vedere Se riesco ad andare In una zona decente Intanto Siamo praticamente Riusciti ad arrivare lì Che è positivissima Come cosa Almeno abbiamo tolto lui Che è tanta roba E dovrei riuscire Ad arrivare lì Grande Grande Ale Non cadere Per l'amore del cielo Poi proviamo a far girare Nuovamente Questo Che questo è bloccato Vedete È praticamente fisso La piattaforma è laggiù Ma Qui tra l'altro Ci sono due screen Da prendere Poi Eventualmente Non è che Me li sono persi Devo farla girare ancora Tipo due volte Da qui forse riusciamo Ad arrivargli sopra Quella zona Devo provare Vediamo un po' Se c'è un qualcosa Per salire ancora No Sono troppo basso Dovrei Arrivareci Praticamente Lassù Proviamo a vedere Se girando Questa centrale Riusciamo a prendere Almeno due screen Al momento Sembra proprio Di sì Almeno uno Ce lo prendiamo So che Scivolerò da qui Però Va bene in questo modo È sempre uno scrigno Ragazzi È pur sempre uno scrigno E c'è un arco da cavaliere Con super attacco Wow Mi sa che L'arco da cavaliere Che abbiamo adesso È inferiore a questo Decisamente Ok Più sei E quest'altro è resistente Il resistente Vorrei tenermelo Preferisco scartare Questo francamente Perché I resistenti Possono comunque Servirci Poi più avanti Nel gioco Comunque durano molto Quindi Male non fa mai Ecco Avergli Molto resistenti Gli archi da cavaliere E gli archi in generale Ci arriveremo là In volo Penso di sì Grandi Perfetto Altro scrigno Tragiro Altra corsa Il premio è Questa volta Un'asse ancestrale Buono Buono Non sono proprio Comunissime Le assi ancestrali Quindi Trovarne Fa sempre piacere E sempre comodo Mentre A me adesso È venuta in mente Un'ideuzza Per arrivare fino là Il problema è che Fasi sicuramente Non ci riuscirò Oh Mamma mia Ok Ora se io giro Questa cosa Dovrei Riuscire No Sono al contrario Peccato Era buona L'idea Era abbastanza buona L'idea Questo è stato È stato un vero peccato Non esserci riusciti Non mi arrendo Però così Non mi arrendo In questo modo Voglio provare A girare ancora E a stare Eventualmente qui Se il nostro link Ci riesce Non proprio Mamma mia Ho rischiato Veramente di farmi Del male fisico Non indifferente Se io giro Quello centrale No Poi mi lancio Così Ce la faccio Ad arrivare No Link Di quanto Di quanto Ah Ho attivato Qualcosa Presumo Ho attivato Roba Ragazzi Non ho idea Del perché Ma ho attivato Roba E voglio Sfruttarla Possibilmente Questa roba Tipo Facendo Quasi Ma Entrando a questa Porta Cioè Dove andiamo a finire Esattamente Andiamo a finire Male Oppure si può Arrivare anche Nella parte superiore Quella famosa Parte superiore Che volevo io Prima Perché sarebbe Comodissimo Riuscire ad arrivare Dassù Molto comodo Sarebbe riuscire Ad arrivare in alto Vediamo un po' Se si sblocca qualcosa Prima o poi Qui Se troviamo Un'entrata Un ingresso Che dovrebbe esserci Più o meno Adesso O perlomeno Molto a breve Se abbiamo fatto Qualcosa di giusto Altrimenti no Sì Eccola qui Ok Ma se io entro Qui un attimo Tipo C'è un timone Ok Ci sono delle scale Per rientrare Ah sì Ci possiamo arrivare qui Ok Allora aspetta 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 Proviamo un attimo A fare questa zona Prima Ah Si attivano Quelle cose Sono da entrambe Le parti O no Le lanterne Perché di là Ho visto ce n'è una Ma sono anche di qua Oppure no Devo riuscire a capirlo Ah se andiamo indietro Attiviamo una Se andiamo avanti Attiviamo l'altra Ah ok Perfetto Va bene D'accordo Capito E una L'abbiamo attivata Adesso c'è da attivare Quest'altra Questa non si dovrebbe muovere No Ok Bene Vediamo un po' Se riusciamo A trovare il punto giusto Per lasciarla Tipo adesso Yes Grandi Mi sa che ho sbloccato L'altra piattaforma Ho chiuso la coda Cos'è che ho fatto Ho la testa Cosa Non ho capito bene Dove È la testa o la coda Quella È la testa Gli ho alzato la testa Ottimo Gentilmente Può riscendere Grazie Dove va lei Dove va la piattaforma Sono salito sopra Adesso vediamo di andare Più su possibile Tra l'altro Un'altra piattaforma Dovrebbe essere Tipo lì Di qua invece dove Ah no 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 È qua su È più sopra È l'altra piattaforma Però Tanto accendiamo questa Che è comunque Un terminale da accendere Restano ancora Tre terminali Avanti Metticela tutta È con calma e per piacere Con calma e per piacere Facciamo tutto Io ora volevo capire Qui dove sono Esattamente Perché Del tipo Mi conviene arrivare Di là Oppure no Tanto per capire Tra l'altro Qui ci sono Scrigni eventuali Tipo qua dietro Oppure io Vado a finire male Se vado proprio qua Ho questa impressione Che vado a finire male Però ci provo lo stesso No direi che Qua scrigni Non ne vedo E Quella zona È apribile Sembra di no Se tipo È una buona idea È una buona idea Secondo me Ma non sono sicuro Di riuscire A arrivare fino lì Quindi Sarei quasi Per ridargli corrente O eventualmente Provare a far girare Questa parte Noi dovremmo Rimanere fermi Comunque qui Vediamo un po' Che succede Se io riuscissi A cadere Lì sotto Potrei anche entrare Addirittura Se mi lanciassi Fino là Guardate Se mi lancio là Ci arrivo Ok Fermi Buoni così Dovrei Eserci Perfetto Rigiriamo Dovrei esserci Adesso Spero che il salto Si possa fare Da qui Verso l'altra piattaforma Io Io spero Grandi Grandi Grandissimi Ci siamo arrivati Grandi Così sai Grandi Non so se era questo Il metodo Prestabilito Ma L'importante E' esserci riusciti Grandi Restano solo Due terminali Calma e sangue freddo Eh ok Con calma Facciamo anche quello Calma e sangue freddo Sempre e comunque L'altro No aspettate Dov'è che Rimane l'altro Ah no E' fuori dai cerchi E' fuori dai cerchi Sono tutti e due Fuori dai cerchi Però io Come ci arrivo Io sopra esattamente Ah intanto Sono scivolato Qua giù di sotto Semplicemente Guardate un po' Cosa ho trovato C'è uno scrigno Ok C'è uno scrigno Che però Andrà nel vuoto A meno che Col calamitron Aspettate un po' Che mi è venuta Un'altra idea Che forse funziona Anche meglio Allora Prima di tutto Stasis E lo fermiamo Poi Freccia E tagliamo Poi Calamitron Vediamo un po' No Da Ah Non l'ho agganciato E non si può agganciare Quando c'è La stasis accesa Giuro che pensavo Si potesse fare Invece No E quindi Quello Disperso nelle sabbie Non so neanche dove siamo Adesso Più o meno Maledizione Chissà che c'era Là dentro Tra l'altro Questo è un problema Mi dispiace veramente tanto Essermelo perso Devo riuscire a salire adesso Ok Forse Forse devo andare Arrivare lassù in cima Però come Come ci arrivo esattamente Aspettate Non avevo Non avevo fatto caso A quell'apertura Mi sa Ok Ci sono arrivato E È andata bene Vi faccio vedere la posizione Delle Linee Spero vi serva Per arrivare Fin quassù Comunque Sì Questa è una zona Che non avevamo Ancora Esplorato E che Ci dovrebbe Portare A un bel niente Ma magari Anche sì Quindi Prima di tutto Qui Che dia Come funziona Sti cosi Esattamente Io li posso Spostare Per farmene Cosa esattamente Aspettate un attimo Che qui c'è da capire Non posso Metterli così Serve a qualcosa Tipo posizionarli Dove ci sono Quei Vedete Per unirli In questo modo Ora Dovrei portare Le linee Elettricità Da questa parte Presumo Suppongo Quindi Proviamo A girare Un po' Il tutto Perché Non vedo Altro modo Sì Devo collegare L'elettricità Qua in alto In via del tutto Teorica Sì Cosa ho fatto Ho spostato Che cosa Non ne ho la benché minima idea Ma qualcosa ho spostato Ho fatto arrivare Lassù sopra Quella parte lì Ma io adesso Come ci arrivo Lassù esattamente No Giusto per capire Allora Ho visto che questa parte Va fin lassù in cima Quindi Via del tutto teorica Se io adesso Riporto il tutto Così E riattivo Questo mi dovrebbe Portare Lassù in alto E non dovrei cadere Perché ho questa cosa Qui C'è un occhio Mi sembra Da distruggere Però Dovrei riuscirci Vediamo se si allinea Con calma e per piacere Yes Bene Questo si è attivato Meno male Andata bene Poteva andare decisamente Molto peggio Quello Mi pare un occhio Ma Ma anche no Non si è Maledetto Ok Si è attivato dopo Il malefico E abbiamo trovato La strada per salire Grandi Grandi In questa maniera Scrigni Non ne vedo Almeno Non qui Quindi Qui c'è un ascensore Che ci porta Esattamente Qui a distruggere Quest'occhio Noi scendiamo Si ci si può risalire dopo Con calma Perfetto Bene 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 Ottimo così Qui c'è un guardiano E credo ci sia La stanza Del Vieni qui Maledetto La stanza Dell'altro Terminale Presumo Suppongo Quindi dovremo Andarci Però Prima Quanto pare Dovremmo passare Da altre parti Eventualmente No Questa è semplicemente La parte sotto Che diavolo Devo fare Aspetta Aspetta C'è roba Che me ne faccio Io di questa Esattamente Perché C'è da capirlo Qui Allora Proviamo Amo A farci del male Fisico Molto importante Ma va bene così Cos'è che devo collegare Scusami esattamente Io Perché qui Vedo roba Ma Cosa devo collegare Ah Quella mi sa Ok C'era C'era roba lì da attivare Perfetto Aspettate Allora Prima di tutto Andiamo qui Questa posiamola un attimo Anzi Eh Sì posala Perché Dovrebbe Tecnicamente Portare energia Quindi Da punto Non volevo Avere Scariche elettriche Varie Vicino Ma scusa Gentilmente Non è che puoi stare qui È proprio Tipo lì Ok Poi togliamo Quell'occhio Che è tanta roba E credo ci permetterà Anche di passare Ma c'è anche una parte superiore Ok Ci permetterà Di andare Da questa parte Mamma mia Che lavoro Aspettate che prima salgo Vediamo un po' Dove ci porta Sta scala Che è un problema Ah Da uno scrigno E Da questo affare Che esattamente Cosa fa Gira Gira quel cerchio Credo che debba portare La corrente Tipo per poi No Per poi Devo portare Quello Lì In modo da poi Spostare la pallina Credo La sfera Sì ok Si è accesa E infatti adesso C'è elettricità Lì Quindi quella palla La possiamo anche spostare Dopo eventualmente Nel frattempo Nel frattempo Io voglio arrivare Pino lì Senza morirci Ale Possibilmente Ottimo Scrigno aperto Dalla parte opposta Ma è un topazio E va bene In questa maniera Ora In via del tutto teorica Io posso Riuscire Anche A passare di là Montando da qui E c'è un'altra Sfera lassù Guardate Ma ci salgo da qui? Sì Ma anche sì Schifezze Non ne vedo Ottimo Almeno non ho chi Per un momento Ho visto di peggio Al momento Mamma mia No No Ale Fermo Calmo Rilassati Ale relax Perché qui va a finire Malissimo Perché sto facendo Ciò Perché sto facendo Ciò Ok Devo rimangiare qualcosa Perché altrimenti Diventerà un problema E non so se devo portare Anche l'altra Sfera Con me Tipo Maledizione Di quanto Prima Tolgo quell'occhio Visto Ok Lascio perdere L'occhio Al momento Ehm Prendo Prendo questa Sfera Portiamocela dietro Magari ci serve Preso al volo Grandi E quell'occhio L'abbiamo tolto Se non altro Ora Con questa Che diamine Dobbiamo fare esattamente Sì lo so che ho rischiato Tantissimo a buttarmi qui Ma ci voleva Ci poteva stare C'è quella là Che va tolta Perfetto Vediamo un po' Cosa libera Io spero Mi liberi l'ingresso Grandi Grandi In questo modo Dovrei trovare Qualcosa Per far girare Questo cerchio Forse E per far andare Questa Dalla parte Opposta In teoria Però come faccio Questo è un bel problema Perché se noi Mettiamo questa qui Questa si apre Ma se io gliela lascio Qui sopra Tipo Gliela appoggio Cos'è che mi atta Ah ma erano di là Maledizione Wow Sono anche belli arrabbiati Questi qui Ok Per fortuna sono solo due Solo relativamente Ma con due Ce la possiamo fare Con la nostra potenza Al momento Della spada suprema Ok Bene 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 Ottimo Ale Ottimo così Qui dentro invece che c'è? Assolutamente niente Ai barilotti E forse mi servivano anche Maledizione Ma sono dettagli L'importante è essere riusciti a Ah Quindi quella sta Accesa E noi adesso Possiamo portare Queste due sfere Da questa parte Entrambe le sfere però E io l'altra sfera Dove diamine L'ho lasciata al momento? No Giusto per capire Ok Eccola qui l'altra sfera Bene Non credo mi serva Più di tanto Tenere Manca pochissimo Eh Lo immagino Il problema è ora Come si fa ad attivare quello Perché non ho idea di dove sia È lassù in alto Ma come ci si arriva esattamente? Non lo so Dovrebbe essere a quest'altè L'avevo liberato prima Con Revali E' sempre in guardia Eh sì Ok D'accordo Come premio Miss Antipatia Te la stai giocando Con Revali Per Mister e Miss Antipatia Ecco voi due Comunque A parte questo Per ora mi era stata anche simpatica Orbosa Per il momento Direi che per questo episodio Ci salutiamo qui Nel prossimo ci faremo Attiveremo Il terminale principale Ci faremo Una bella Boss fight Quindi non ve lo perdete Mi raccomando Mi dispiace essermi perso Quello scrigno Che è caduto nel vuoto Peccato Io vi ricordo Se vi va di iscrivervi I miei canali Facebook e Twitter Se vi va di seguirmi Su Viversi Instagram e Telegram E aggiungermi Agli amici di Switch Steam e Playstation Network Saluto ancora da Access00 E alla prossima Ciao